Liste di attesa, strutture di pronto soccorso soppresse, ospedali e reparti chiusi, anch'essi soppressi. La sanità deve affrontare queste dolenti tematiche. Ne parliamo con il dottor Luigi Laterza, candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega a sostegno di Raffaele Fitto. Il dottor Laterza è un esperto del settore, essendo ovviamente un medico. Cosa non ha funzionato? Cosa ha funzionato? Cosa dovrebbe funzionare meglio nella sanità regionale e per riflesso in quella tarantina? Ha funzionato sicuramente grazie alla grande professionalità dei colleghi e di tutto il comparto sanitario ionico. Funziona la medicina del territorio, funziona la pediatria di base, funziona la medicina generale. Funzionano benissimo i reparti dove sono aperti e dove c'è la possibilità di poter lavorare con delle strutture idonee. Quella che è mancata è la strategia per poter dare una sanità valida alla provincia di Taranto, ma credo all'intera regione. Molte volte la sanità viene vista più come, da un punto di vista dell'indotto elettorale clientelare, con assunzioni a tempo determinato che possano diventare da un momento all'altro indeterminato. Quindi si valuta più in relazione a questo che non a quelle che sono veramente le vere esigenze del territorio. Si è creata, si è fatta la scelta del grandissimo ospedale San Cataldo, che non sapremo mai se avrà luce e quando avrà luce, ma si è operato come se già ci fosse questo ospedale. Per cui noi abbiamo nel territorio un depauperamento assoluto dei pronto soccorso, di altri tipi di reparti, reparti che si trovano improvvisamente da Taranto spostati in provincia, tipo quello di oculistica per esempio, o quello di geriatria. Nello stesso tempo non abbiamo quel grosso ospedale che tanto era stato agognato dai vertici regionali. Mi ripeto, ma è fondamentale questo, che non sappiamo quando avrà luce. Non possiamo certo rimanere in questa situazione nell'emore che questo ospedale sia finito, costruito e sia funzionante.